ciao a tutti e benvenuti nel canale in questo video vi spiegherò come aumentare la dimensione dei caratteri nella chat di twitch come vedete io ho due pulsanti meno e più con i quali posso aumentare e diminuire i caratteri della chat i font praticamente la grandezza dei caratteri purtroppo più di questo non posso andare altrimenti dovrei ricorrere a questo trucchetto ma non è il caso se volete aumentare la grandezza dei caratteri in google chrome esiste una comoda estensione chiamata twitch chat font size che vi riporto nella descrizione del video quindi voi installate l'estensione riavviate twitch se avete twitch aperto e vedrete comparire come per magia questi due pulsanti che vi permettono di aumentare e ridurre i caratteri